ben a tutti amici gigantini eccoci qui dal vostro gigante di giganti hyper albi eccoci qua finalmente con un nuovo video e soprattutto oggi iniziamo finalmente con un nuovo format nei scorsi video vi ho parlato anche soprattutto che inizieremo questo nuovo format dedicato soprattutto all'automotive e oggi finalmente inizieremo col primo format dedicato soprattutto alle video reaction per quanto riguarda quello che vi ho detto nel scorso video infatti oggi cominceremo appunto con le video reaction riguardante per prima di tutto soprattutto al design della mia macchina ovvero la nissan 300 zx che però vedremo con alcuni esemplari che possono comunque avere uno stile ben diverso ma comunque con un kit estetico differente ad un'altra ma vediamo cosa esattamente vedremo ma prima ragazzi sigla prima di iniziare questo video soprattutto questo nuovo format di questa nuova stagione mi raccomando ragazzi andate a lasciare un bel mi piace mi raccomando è un commento e soprattutto ragazzi iscrivetevi al mio canale youtube e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video che andremo a fare in questo momento e soprattutto che andremo a scovare e a fare questo nuovo format che adesso cominceremo finalmente a fare questa nuova avventura insieme finalmente che oggi la mia prima video reaction in assoluto sarà appunto questo del video del mio canale vediamo cosa riusciremo a fare ma intanto ragazzi iniziamo subito allora ragazzi ecco il video che devo fare oggi esattamente il video che andremo a vedere oggi sulle video reaction sarà appunto sul design della trash della mia macchina ovvero della nissan 300 zx z32 il modello è esattamente quello che c'ho io ma prima ragazzi se volete esattamente a dare un'occhiata al mio video che è uscito appunto già un annetto fa andate a cliccare soprattutto dove c'è nel link in descrizione il video dove praticamente ho girato il video sulla mia splendida macchina ovvero la nissan 300 zx z32 che adesso oggi andremo a vedere appunto questo esemplare che eventualmente ci sono altri semplici con un design ben diverso ma soprattutto con estetiche anche modifiche che sono state anche pure modificate anche per quanto riguarda lo stile eccetera eccetera andremo a vedere alcuni esemplari per vedere esattamente come hanno realizzato l'estetica della nissan 300 zx andiamo a vedere eccola qui ragazzi ecco il primo video di oggi andremo a vedere questa banalissima nissan 300 zx appunto z32 con il colore rosso come piace a me ma con dei cerchi molto raffinati quelli brumiti e soprattutto con il lips con sotto paraurti anteriore ovviamente al resto del paraurti anteriore sembra tipo di ovviamente originale di serie ma con un piccolo dettaglio eventualmente il lips quello sotto paraurti almeno per quello sia per questa cosa ma almeno il resto comunque sembra comunque tutto originale ma senza comunque nessun compromesso eventualmente questa è fantastica che bella ragazzi bellissima veramente io sono veramente innamorato davvero pazzo quando posso riempire la mia macchina va bene questo è quanto ragazzi stupendo e intanto si sgasa vuole ed ecco un altro esemplare ragazzi questa comunque è cabrio a due posti questa comunque è la versione americana cerchi bianchi veramente pazzesca ma con fari posteriori che sono comunque più evoluti e sono eventualmente quelli maggiormente modificati con un alettone così è davvero magnifico cerchi bianchi abbinano con la carrozzeria del nero col colore della carrozzeria nera è qualcosa di unico ci abbina comunque lo stesso ok a posto e adesso qui si ragiona un poco sul serio paraurti anteriore un po diciamo white body lo spiego perché white body è il diciamo il kit estetico quello per ora più completo ma con un'estetica esagerata qui vediamo invece una versione diciamo un po particolare ma però questo ragazzi è uno dei modelli che un pochettino un esemplare che praticamente ha qualcosa che non va ma comunque forse è anche tipo in fase di restauro ma comunque già per me è già comunque un bel potenziale con degli scarichi che si abbina che sono veramente piuttosto importanti come se ci fosse tipo un po di sporco ma vabbè dai però la cosa che mi intriga di più ragazzi e la sono i fari posteriori quelli mi hanno quelli mi hanno praticamente convinto di più per come l'hanno fatta pazzesco cerchi anche quelli belli soprattutto anche la decalcomania è pure fantastica anche quelle sono veramente un design unico però molto bello direi oh adesso siamo comunque in un altro con un altro colore vediamo questo grigio con i cerchi argentati e qui adesso fa un po il so burnout ma non è questo che vogliamo vedere ma questo ne parleremo poi al prossimo video che stile è unico anche con la della patta lo stile è qualcosa di speciale e questa guarda qua anche così con l'estetica anche originale dà il suo tocco aerodinamico quello esemplare ora passiamo a quest'altra vediamo questa oh my god anche questo sino soprattutto la cosa più esagerata ragazzi sono gli intercooler mamma che cosa incredibile ragazzi cosa incredibile così la devo fare vediamo quest'altra i fari posteriori invece quelli mai 99 sono qualcosa di intrigante ma anche il design dello scarico dell'impianto scarico è veramente magnifico mamma mia che botte che botte ecco un altro ecco questa invece è rossa un po' di serie intanto sta facendo il dino che è il rullo del per misurare soprattutto la potenza di ogni macchina ma questa ragazzi il suo design è anche così anche quando dice una ruota fa il suo effetto e quest'altra invece questa è un po più larga bella massiccia e questa invece fa molta più bella vediamo invece quest'altra e questa invece è da anche quell'altro tocco di classe sembra un po' che abbia tizzatori ma non so come il rombo è quello che è il v6 è quello che è adesso vediamo quest'altra non so come potrebbe farla finire e questo invece c'è il piatto scarico anche quello però sempre quella meglio faccia pure i fari posteriori ma va bene anche quello è più aggressiva anche così anche il sotto da qualche piccolo ritocco mi sembra favolosa ma sembra ancora meglio di prima invece vediamo quest'altro questo sembra tipo l'ultimo e sempre della 300 l'ultimo la versione diciamo quella restyling quella sì eh ragazzi il drifting anche questa sta veramente veramente ci sta di lusso no rega guardate com'è sfila liscio soprattutto in uno spazio come il parcheggio magnifico il paraurti comunque anteriore è originale anche quello posteriore devo dire che anche così così mi va benissimo tutto di serie non mi serve altro vediamo anche questa invece tutta bella cromata tra paraurti come si dice da carrozzia oh attenzione ma che è c'è tipo i fari posteriori quelli tipo ferrari oppure forse somigliano un pochettino a una fiat coupe ma vabbè dai il design è bello paraurti anteriore bellissimo griglia bell'argentata comunque ragazzi griglia esagerata ma comunque stile è veramente unico comunque stiamo super giù sulla media ma va bene comunque lo stesso fa veramente anche paura ma comunque cromata magnifica spettacolare preferisco che un po' più racing perché sono più per le prestazioni e racing in generale ma anche questo è sempre mi è sembrato un po' diciamo interessante ma comunque e vediamo questo che c'è tipo i cerchi tipo stile sono più grandi tipo come se fossero 21 pollici più o meno però il rombo anzi questo secondo me avrà svappato il motore non che sembra un V6 ma sembra tipo un un V8 risentiamo eh parti oh dai sembra tipo una sembra che è un rumbo di una parata come fa tutututun tututututututututututututututututututututututututututututututu i cerchi comunque quelli essendo 21 pollici sembrano stile un poco ferrari testa rossa ma sembra molto però sono più grandi rispetto a quelli di prima va bene ci siamo comunque capiti e vediamo invece questa ragazzi ah ragazzi questa ancora con la luce che c'è è molto più si vede ancora meglio i cerchi sono invece quelli della quelli che mi ricordano japan racing oppure della race è quello della rice sono comunque quelli interni anche stilosi vabbè paraurti e kit estetico qualcosa di speciale soprattutto i sedili color beige non lo so se conviene non so se il colore mi è preferito ma vabbè dai cofano vabbè c'è le prese d'aria quelle messe quelle diciamo laterali e anche uno centrale niente forse dovrebbe essere tipo in carbonio più o meno perché sembra un po in carbonio ma vedremo anche questi c'ha i fari posteriori maia 99 niente il migliore di tutti veramente grandioso anche questa ragazzi sembra messa piuttosto bene però mi intrigano più però mi fa impazzire le gomme non so perché perché fanno un po di lucidità non lo so ma anche soprattutto i cerchi vanno bene comunque di che parliamo ragazzi questo con l'assetto tipo dal fronte al dosso è l'assetto ribassato ragazzi e intanto ragazzi il paraurti anteriore white body anche questa questa si è messo il white body e guarda come fila 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 è sì che sempre ora vediamo questa ragazzi guardate questa questa invece è ancora più aggressiva così guarda mi impazzisco questa stupenda i cerchi sono più grandi però questi sono più aggressivi accattivanti soprattutto neri è questo e poi soprattutto il cerchio comunque lo mette tipo proprio sfiorando il parafango ma almeno la misura c'è l'hanno comunque fatto anche su misura il parafango anche soprattutto mettendoci i distanziali quelli più larghi soprattutto non so se sono da 20 30 centimetri ma va bene anche così pazzesca vero grande grande e soprattutto quello che invece mi ha fatto impazzire di questa macchina invece sono i le luci anteriori soprattutto per quanto riguarda le frecce anteriori però al posto delle frecce anteriori ci hanno messo queste prese d'aria piccole prese d'aria all'altezza delle luci anteriori soprattutto le frecce anteriori al posto delle frecce anteriori ci mettono queste piccole prese d'aria magnifico per dare più aria e più aerodinamica mamma mia favolosa questo è magnifico adesso siamo comunque ragazzi stile aria di servizio a eccolo qua ragazzi abbiamo questo esemplare magnifico la notte fa veramente ancora più paura ragazzi guardate favolosa la notte può far rispendere ancora di più parafango ancora larghi però la stessa identica di quella di prima ragazzi è la stessa identica sempre comunque stile tipo bullet for the mustang ma comunque più evoluta ma ancora però sempre di un altro modello ma sempre 300 zx imitando la mustang del 68 ma comunque a favore a qualcosa che che dimitato ma almeno anche questo stile ragazzi va benissimo finalmente eccoci quattimo pezzo di oggi eccolo qua una verde diciamo credo sia verde acqua ragazzi guardate c'è la cintura della tanaka questo ragazzi la conosco anzi la tanaka fa veramente delle cinture ma soprattutto anche volanti bellissimi ne prenderei uno prenderei uno spero e guardate questa c'è invece cerchi stile tipo ferrari forse tipo un 355 un 348 pazzesca però comunque molto più belli anche perché sono più larghi rispetto alle ferrari comunque e cerchi delle ferrari queste sono più grandi però vanni magnifica a ragazzi che favolosa verde acqua ci starebbe hanno fatto anche comunque delle modifiche ai parafanghi mamma mia con dei chiodi appunto anzi con le viti vabbè mettendoci anche pure i cosi eh sì favolosi grande grande comunque l'importante è che almeno vada tutto bene erronea comunque bella la decalcomania e qui cos'hanno c'è pezzi di caratti d'oro c'è pezzi tipo biti d'oro qualcosa di unico volante omp ci sta però prenderei un'altra marca se voglio comprarmi un volante serio sedili sparco vabbè quelli sono diciamo più quelli leggendari ma vanno però forse ragazzi mi sa che la sparco credo che e forse credo che abbiano fallito credo penso che la sparco credo che sia in credo in chiusura brand perché forse è in fallimento non sappiamo se ma credo di sì ragazzi non saprei dirvelo bene ragazzi e questo ragazzi riguarda soprattutto solo design questa è soltanto la prima parte del video reaction soprattutto per quanto riguarda la mia macchina la 300zx e quindi ragazzi spero che comunque vi sia piaciuto comunque questo video di oggi per questa video prima reaction ragazzi fatemi sapere la vostra che ne pensate se per caso vi interesserebbe comunque avere altri video che faremo comunque che io semplicemente voglio fare comunque la mia prima parte del format della video reaction sulla mia macchina dedicato soprattutto alle varie parti ma soprattutto riguardo per esempio scarico potenza e cerchi eccetera 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 qualsiasi cosa che vi capita in la 300zx e se volete comunque altri video di questo genere soprattutto automotive fatemelo sapere comunque nei vostri commenti se vi interessano altri tipi esemplari soprattutto tra GDM tedesche americane eccetera eccetera se volete siete liberi comunque di esprimere le vostre opinioni e soprattutto anche di dire la vostra fatemi sapere e soprattutto ragazzi grazie a tutti voi per essere per aver visto questo video ci vediamo al prossimo video grazie comunque e noi ci vediamo al prossimo video per un'altra video reaction per questo inizio format della stagione stay tuned e stay giant bella a tutti ci vediamo al prossimo video wow